Siamo insieme un ospite, il buon Creepy, un esperto di Challenge Pokémon e finalmente ci sfideremo su Pokémon Smeraldo. Io e Creepy avremo 45 minuti a testa per poter andare in giro per Hoenn, catturare i Pokémon, allenare i Pokémon e poi sfidarci alla fine di questi 45 minuti. Quindi questa sarà la sfida, è molto semplice, ovviamente ci sono anche delle altre piccolezze, per esempio abbiamo deciso che per rendere il tutto più equilibrato Alla fine di 45 minuti porteremo tutti i Pokémon a livello 50, capito? A prescindere come sono evoluti, non evoluti, mosse, non mosse, quello che abbiamo lo portiamo al 50 e poi ci sfidiamo. Signor Giovanni, siamo pronti? Ok, sì, perfetto, ci siamo. Eccoci, mostriamo il nostro milissimo salvataggio e i Pokémon che ho preparato, ci aiuteranno nella cattura, nel livellare i Pokémon, abbiamo un milissimo Marowak con volo, surf, falso finale e profumino. Qualcuno si chiederà perché? Allora, la mia logica è, serve un Pokémon con falso finale, così ci agevo la cattura, e serve un Pokémon con volo che ci porta in giro. Cazzo, non c'è nessun Pokémon che impara se volo e falso finale. Ho preso il primo Pokémon che imparava falso finale, cioè Marowak con P.K.X. lo ha cacciato dentro il volo. Poi vabbè, abbiamo Girafarig e anche Jinx. Poi mostriamo nello zaino, non abbiamo nessun oggetto se non il condivisore di esperienza che vi aiuterà a livellare. Nessuna ball perché dovremmo comprarle, una MT per ogni tipo, quindi non potremmo andare a insegnare le stesse mosse. Si può comprare tutto tranne le MT. Ah, poi un'altra cosa importante, quando porteremo i Pokémon al 50, come abbiamo già specificato, i Pokémon saranno come frizzati, non è che gli insegnano le mosse, se si devono evolvere non li facciamo evolvere, cioè così come sono, il livello che viviamo, li portiamo al 50 a tale 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 tale. Che questo è importante perché sennò uno poi per i Pokémon a mo' di investimento, capito? sala, Benz eccetera, invece no, è sala Benz, se tu riesci a portare Bagon al 50 allora puoi vivere sarà, tantalmente i cazzi tuoi. 3, 2, 1, via! Iniziamo. Prima cosa, si comprano le palle. Poi mi comprerei anche dei repellenti nel caso dovessimo fare il trick del repellente. Abbiamo 45 minuti ragazzi per allenare il nostro team, Da chi possiamo iniziare? Io non mi sono fatto alcun plan sinceramente, potrò partire con un Ariyama, Ariyama penso sia abbastanza forte, posso dire la sua qua, anche perché c'ha Guts, quindi ci sta secondo me a trattare con un bel Ariyama, ovviamente non possiamo velocizzare, sia chiaro, Ariyama c'ha fake out nel lotto in doppia e tanta roba, tantissimo attacco, tanti HP, il resto un po' un cesso però, voglio dire, sa il fatto suo, Zablai potrebbe servire? Sto pensando, no più che, eccolo Ariyama, più che Zablai sapete cosa? Mi piacerebbe o Banette o Dusclops, ci sono tanta roba, ok, dov'è? Qua, è vero, non siamo su Rossofuoco che è l'ultima pagina, leh, ok, Ariyama ha preso, vediamo un po' come mi è uscito, fiacca, non mi ricordo qual è, sarò onesto, dovrebbe essere una di quelle neutre, boh, vabbè, possiamo andare a prendere un Dusclops, l'unica cosa, non possiamo fargli falso finale, quindi lo picchiamo un po' con Ariyama, non è che lo shotta, no, c'ha privazione, non gli fa niente a posto, ah, mi viene da spiddare qua ma niente, oddio, Gloom può servirci? Ci sta un Viplum Clorofilla, secondo voi? Ragazzi, guardate che Viplum Clorofilla per me non è un cesso, Viplum Clorofilla magari con un Pokémon Fuoco, facciamo il Sun Team, allora, un Pokémon Spettro serve, più che altro sapete perché lo Spettro serve? Perché potrebbe scapparci un'autodistruzione barra esplosione a queste parti. È un bel Duskull livello alto, Shuppet, ma Duskull si trova qua? 13% in cima, potrei prendere Shuppet per fare il trucchetto in cima, cosa c'è? È giusto per trovare un livello un po' più alto, è maledizione. Non ho scelto un Pokémon facile da trovare effettivamente, 13%, ci serve un Pokémon Acqua, quello è ovvio. I Pokémon comuni penso siano proprio i Pokémon Acqua, per quello, secondo me, mi potrebbe far comodo un Viplum con Clorofilla. Andiamo su in cima, vediamo se riusciamo a trovare sto cazzo di Duskull. Vabbè, hola! Let's go! Buono al 28! Andiamo se riusciamo a danneggiarlo, ma non troppo. Io ho paura però che faccia maledizione lui. Secondo me è rischioso, vediamo se riesco a catturarlo così? Eh, magari. Sarà molto difficile riuscire a catturare questo Duskull, già lo sento. Dai, un altro colpetto. Oh, ci abbiamo fatto a Riyama, bravo. Nice Duskull, bravo ragazzo. Allora, torniamo a Portal Gheppoli. Wailord sarebbe tanta, 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 tanta roba. Percorso 129 lo si trova. Con l'1%, bene, puntiamo magari a un Wailmer. O Wailmer o Sharpedo, sono entrambi buoni, ecco. L'unica cosa, Wailmer mi serve un livello alto, perché Wailord arriva al 40. Che bella la pesca su Pokémon, ragazzi. Ricorda molto la pesca nella vita reale. La differenza è che nella vita reale prendi meno pesce. Uh, secondo me non si butta. Potremmo comunque prenderlo. Vediamo quando impara Sgranocchio. Al 22, quindi teoricamente l'ha già imparato. Spero che ce l'abbia, perché effettivamente... Beh, oddio, la squama a cuore e ci sono i Ladvisk da catturare. Possiamo insegnarlo con quello. Come Sharpedo non è così male. Mi sarebbe piaciuto molto di più Wailord, perché è effettivamente migliore come Pokémon. Però direi che ce lo possiamo far andare bene, considerata la situazione. Vogliamo andare di Torqual come Pokémon Fuoco? Torqual è tanta roba come Pokémon. Non è per niente debole. I Torqual migliori si trovano qua, immagino. Mi hanno andato niente di qua. E vediamo di prenderlo. Eccolo Torqual. Torqual più che altro non mi vengono in mente tanti altri Pokémon Fuoco. Porti come Torqual qua. Perché Kamerupt fa schifo. 4 per all'acqua. Difese bassi. Non ha senso. Torqual è 10 volte meglio. Torqual. Ce l'abbiamo. Serve un Pokémon Eletro sicuramente. Io ho paura che Duskul non riusciremo ad usarlo, sapete. Torqual, Sharpedo. Torpedo, Gloom, Duskul. La cosa siamo deboli? Sicuramente alla terra. C'è qualche debolezza alla terra qua. Sai sicuramente un Pokémon volante. La domanda è chi ci prendiamo come Pokémon volante. Schermory ci potrebbe stare. Il problema di Schermory è che è difficilissimo a trovare. Ci potrebbero essere degli uccelli migliori. A sto punto sti cazzi degli uccelli andiamo a prendere Solorok. Sono effettivamente Cegiardos. Sempre super strong ed è un intimidate. Sapete che quasi quasi è meglio. Si trova direttamente senza dover passare da Magikarp. A Ceneride. 20% di possibilità. Prendiamo lui, mi piace di più. Non sia al massimo in un Sun Team però sti cazzi. Stiamo facendo una roba molto improvvisata in realtà. Che palle fare sta pesca, guarda. Con calma, tanto non abbia nessuna fretta. Nice. Eccolo. Lo cercavamo, mica, dal 20 al 45. Ok. Questo è assolutamente abbastanza forte. Oltretutto mi piacerebbe prendere un Pokémon con parafulmine. Parafulmine ce l'hanno i Pikachu e Marowak. Oddio c'è Manectric. È molto forte Manectric con parafulmine, sapete? Non è fortissimo come Pokémon elettor. Però il fatto che abbia parafulmine... Perché ricordatevi che è una sfida in doppio. Che vuol dire che se io di fianco c'ho Gyarados, possono farmi fulmine su Gyarados. Se ci metto di fianco a Gyarados e lui compara fulmine, non può farmelo. Ok, ci sarebbe un Pokémon al 26 per fare più in fretta. Vabbè che Manectric si evolve, se non sbaglio, relativamente subito. 10% possibilità di spawnare, se no c'è Electrek fino al 26. Quindi in realtà va bene uguale, dai. Domanda ai 17 minuti ce la faccio a fare la Lega? Io penso di sì con questo... Oddio il team è veramente un meme. Inizio a pensare ragazzi che Duskul non riusciamo a farlo, sapete? Perché di arrivare al 37, non basta una Lega per portarla al 37 ragazzi. Inizio a pensare che non abbia alcun senso. A che livello è? Al 28. Dobbiamo portare su anche Manectric, non ce la facciamo ragazzi. Dobbiamo sceglierne un altro. Perché non possiamo livellarlo con il caramelle rare, come vi ho detto. Cioè i Pokémon rimangono così. C'è anche la possibilità di Whiskash però, attenzione. Pescando e non è per niente male, sapete? Ho 11 minuti. Se prendo Whiskash per me abbiamo fatto. Gli ultimi minuti li spendiamo a dare tutte le varie MT e poi ci faitiamo. Whiskash è tanta roba. E si torna proprio qua sotto. Ed ha anche il 20%, quindi è meno difficilissimo da trovare. Ok. Allora andata. 80% Barbocce, 20% Whiskash. Oltretutto a che livello si evolve? Ah, al 30 si evolve. Quindi in realtà potrei anche trovare un Barbocce di un certo livello e usare lui. Tipo questo è al 32, se riesco a farlo evolvere. Però secondo me, sarò sincero, ci metto meno a trovare un Whiskash a 20%. Mamma mia. Che fatica sta challenge. Forse era meglio darci un'ora di tempo. 45 minuti effettivamente non sono tanti. Eccolo qui. Magnitudo c'ha. Tanto insegniamo terremoto a sto ragazzone. E questo non è per niente male. Non ho visto se Electrek c'ha parafulmeno statico. Cioè in realtà sono entrambi buoni, però parafulmeno è sicuramente meglio una lotta in doppio. Oh yes, parafulmine. A parafulmine, bono, 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 bono. Livelliamo lui, diamo... Porca troia, un po' sto dalla pietra a Gloom. È vero che non... Mamma mia. Non c'abbiamo la pietra da dare a Gloom. E non si può comprare in sto gioco di merda la pietra. Non si può comprare la pietra in sto gioco di merda. Cazzo, dobbiamo cambiare Gloom ragazzi. Porca troia, è vero. Qua non è come in Rossofoco che le compie le pietre. E comunque non posso neanche andarla a cercare perché in sto salvataggio le ho già trovate tutte, quindi... Sì, si può prendere col coccio verde, però troppo sbatti non ha senso secondo me. Serve un altro Pokémon e basta. Ci sono i Tropius ma fanno un po' schifo al cazzo i Tropius. Oh, sentite, andiamo qua e vediamo cosa c'è. 9% Tropius. No, perdiamo troppo tempo ragazzi. Teniamoci Gloom e basta. Ormai l'abbiamo un po' quintata e va bene. Ok, tempo del moveset. Oh, sta suonando qua. Ci sei? Ok. Sto anche pensando alla lead intanto da mettere. Io dopo ti dico cosa avrei voluto fare e che secondo me sarebbe stato game changing, soprattutto perché in Owen, considerando quello che alla fine i Pokémon selvatici puoi trovare, portando quella combo lì che aveva in mente sarebbe stata tanta roba, però mi sono reso conto che c'era una cosa che non potevo fare. Poi ti dirò qual è dopo. E questi livelli 50 mi suggeriscono che sì, ho eseguito. Ok, eccoti. Ci siamo. E tu, immagino che tu non sia mai riuscito a Epsare. Assolutamente no. Non ho avuto neanche tempo di comprarmi due proteine con i pochi soldi che avevo. Hai già mai tempo di vedere chi si merita questa vittoria. Sei pronto? Vai, let's go. Gianni contro Gianni, incredibile. Per me vince Gianni. Adesso sono curioso di vedere che cazzo hai preso tu però, vediamo. Ok, d'accordo, interessante. Qui scassi, Geridos, due li hai preso? Ceneride. Ok, ah ci sta, ci ho pensato Geridos. Però sì, non è male. Va bene, Zablaver a Fake Out. Gioca il bambolotto. Eh, sì. L'idea almeno che tu ce l'abbia, poi non lo so. Io gioco così. Ahà! Che hai fatto tu? Adesso lo scopri. Ok, interessante. Po' di pioggia che non fa mai male. Sei a Owen che non ti fa un Reintim. Un po' il Zablaver a Cosa fa? Un po' di povera di Eletro a Zabla io gliela dovevo dare. Però Wimprass e Fulmina. Non mi aspettavo. Cioè non penso faccia troppissimo danno. Porca! Ok, d'accordo. Ok, potevo prevederlo. Certo, Ariama. Grande po' con Ariama. Peccatoio di Becchi e Psichico. Aia! Beh, però mi aspettavo che tirassi qualcosa lì. Sotto il 50%? Ok, non arriva a Fake Out. Non arriva a Panciamburo se ce l'hai. Questa è un'ottima notizia per me. Non so se ce l'hai però. Ho curioso di vedere quanto prendo sotto schermo luce. Eh, Claydol prenderà 40 secondo me. 34. Non dico, è molucce tanta roba. Eh, sai che Claydol inizialmente non volevo giocarlo così. Eh, però... Ah, io però voglio tankarla sta merda qua. Sì, sì, sì. Ecco, sarà meglio. Cazzo, gli strumento gli ho dato Ariama. Eh, oh, Chris, quella bacca lì? Cos'ha? Questa per aumentare la velocità? No, lì ci attacco fisico. Ok, d'accordo. Interessante. Mike, Claydol hai fatto il tuo. Attenzione! Qua spero di non beccare il terremoto perché altrimenti è finito Tentacral. Eh, effettivamente. Ah, cazzo! Ah, la Protect! Eroci pronto con Supply. Ok, surf. C'è anche a Vercevaria, ma... Oddio, però tu non giocheresti Ariama. Quindi non ha Panciaburo, immagino. Può essere. Potrebbe essere. È l'ombra notturna, me l'aspettavo, scusa, Blay. Mi aspettavo in realtà un altro onda shock per la coverage, però mi sta, in realtà, è una bella messa. Eh, ma penso... Temo di essere a Rollsign. Ah, è baccaraggio. Cringe totale. L'ho data a dieci secondi dalla fine, ti giuro. Ma qui potrei avere anche una giocata molto interessante. Mi fai vedere una cosa. Non conoscendo quella Ariama lì rischio un sacco. Sarò sincero, neanche io so che speed abbia in questo momento. Proviamo questa roba qua. Vediamo, vediamo. Perché io ho pensato, eh, non posso dirtelo cosa ho pensato, beh, è una carta trappola in realtà, un pochino. Devo fare dall'altra parte, mannaggia. Ariama è più leppo, devo guardarle effettivamente io, la velocità. Sì, no, vabbè, Ariama era sicuramente più netto di voi. Ah, cazzo, sai però, portatele, questa è una scammata, perché vado di single target. Terremoto fa più danno, ora. Oddio, non credo in realtà, eh. Sì, 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 fa... Oh no, però aspetta, ti prende anche Ariama. Non so bene come funzioni questa cosa. Vabbè. Vabbè, in realtà è un trade mezzo buono, o no? Uh, interessante, molto interessante. Che è successo? Porca, questo è un problema. Questo è molto interessante. Questo è un problema gigantesco. Beh, cosa potrebbe mai andare storto qua? Non potrebbe mai andare storto. Porca, trovo, avevo un'idea, forse ho fatto un po' un azzardo, eh. Ora che guardo bene potrei aver fatto un azzardo. Ma c'è il giorno di sole sulla raggio, arriva. No, 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 non sono stato così, non sono stato così folle da pensare una roba. Vediamo chi arriva, vediamo chi arriva. Lo accettiamo. Mica, t'hessi fatto terremoto qua, era finita per te. No, però, però, qua è stato un hard predict. Perché io immaginavo che non saresti andato di terremoto, ah, perché avevi sciarpito lì di fianco. Ok, me lo aspettavo, in realtà, sgranocchio su quella slot sign. Cioè, non me lo aspettavo, io pensavo che andassi di doppio surf, però ci stava come giocata. Sì, non aveva senso, cioè, mi aspettavo che lo proteggessi Torqual. Sì, 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 ci sta, ci sta, ci sta, è una buona giocata. Io c'ho Whiskash a più due di difesa speciale, voglio vedere come lo triggio, c'è soltanto poco con speciali per adesso. Orca, è vero, è più due. Non ho considerato che Whiskash a più due, sai? Sono dimenticato di sto dettaglio. Uh, Maitiena, mi piace. È un ottimo switch il tuo. Ok, interessante. Ok, bello questo Intimidate. Eh, sì. Ma adesso che adesso contro quel Caridoss di ora che è morto a Sably non ho più call. Ai, 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 ai. Ma sai che non penso di avere grandi call? Allora, intanto sono curioso di vedere quanto danno fa qua. Bello Gigastro Ibenzo di Trenta Cruel, ce l'hanno anche la torrellotta, siccome hai preso spunto da lì. Un po', e quello un po' mi ricordavo che ci fosse. Mi immagino terremoto se hai messo dentro Caridoss, ovviamente. Eh, cosa potrò mai fare? Però a meno uno non è detto che ti chiedi. No, a meno uno non mi tiri giù, perché si splitta il danno. E poi è Whiskash, non è il king dell'attacco speciale. È attacco fisico, a meno che non crit, porca. Easy, ho la natura che aumenta l'attacco, comunque. No! Meno velocità, più attacco. Porca Troia, a meno uno mi hai tirato giù. Bello! Non male. Adesso devo capire come venirne a capo. Guarda, Trenta Cruel è il primo Pokémon acqua a cui pensi, però, cioè, ricordati una cosa, in terza gen i Pokémon deboli a terremoto valgono la metà, perché tutti ce l'hanno. Poi lascia stare qua, ovviamente, una sfida particolare, però se sei debole a terremoto vali molto, molto poco. Infatti, io Gyarados, ho detto, qua mi serve un Pokémon volante, Gyarados è perfetto. Oh, mi aspettavo che ci sarebbe stato una roba del genere, però ho detto, dai, vuoi che prenda un Pokémon con l'autodistruzione? Appena tu mi hai detto, ehi, come lo dirige Whiskash, il mio cervello ha attivato la lampadina. Porca Troia. Vediamo se lo tiro giù. Ho una natura sfavorevole all'attacco fisico. No, ma di mezzo alla difesa, autodistruzione. Eh, lo so, lo so, però c'è una natura terribile per fare questa cosciocata qua. Ok. Dai, mi concederai il fatto che era legit per sbogliare questa situazione. No, no, certo, certo. È veloce Tlidl, però, eh. Ma in effetti, come ha fatto che li doi outspeedare Gyarados? Non ho rapidartiglie, ti giuro. Ho buone i VIN speed, credo. Ora non ricordo, ma fai vedere quanto ha di speed. Penso che comunque un 70 di base lui lo abbia. Cazzo, mi tocca mostrarti gli altri Pokémon adesso, va bene. Quando siamo, 3v2? Io sono a 3, sì. E io, cazzo, sono a 2, 3, giustamente l'ho ucciso mattina. Il tuo Torkel è morto? Il tuo Torkel c'è ancora? E allora ne facciamo così. Il Torkel era morto? No, c'era, mi sa. Ok, Ariama. Ok, chiamato, ci sta. Ariama avrà fake out? Questa è la vera domanda. Questa è la grande domanda del millennio. Io non ce l'avevo con il mio, quindi è probabile che neanche tu ce l'abbia. E se il tuo Ariama avesse terremoto? Però che senso ha insegnare lui che non ha Claydol? Forse Claydol potrebbe già averlo. Allora, vediamo un po'. Sono... È molto mindgame, secondo me. Tocca fare questo, tocca fare questo. No, no, non puoi... Tocca fare questo. La mossa. Ti giuro, impazzesco. La mossa. Oh, non arriva Protect. Questo fa maluccio, in realtà, su Torkel, ma non troppissimo, perché... Torkel è bello tank. Però la difesa speciale non è massima, farà siccome il 50%. Eh, non... not bad. Penso di avergli dato neanche la... Oh, oh, oh. Mossa arriva. Ariama, ti prego. Ariama, ti prego. Dai, Ariama. Incredibile, ragazzi. No, attrazione ma... Come cazzo ti è venuto in mente? Lì, stai guardando Manetrick. Tra l'altro, Manetrick è un Pokémon che ho droppato. Ai, ai, ai. Ah, vedi che c'ho... Paccafico. Allora, questa è notata blind, sperando lo stico potesse. Mmm... Se facessi un'altra attrazione a Torkel, adesso... Quell'attrazione lì... Si può fare doppia attrazione, sì. Certo. Tutti due maschi sono i tuoi, perfetti. Ti è venuto in mente quando hai visto Manetrick Femmina, per caso? No, stavo scorrendo nelle menti di... Boh, attrazione, vediamo chi posso insegnarlo. Vabbè, easy predict. Eh, ci sta. Vuoi sapere un plot twist? Uh, vabbè. Vuoi sapere un twist? Sì. E Ariama già a zero in special defense e ci ho pensato solo ora. Ah. Ok, GG, hai vinto. No! Ah, forse la... Vabbè, so. Paralisi più innamoramento qua. Potrebbe essere un problema, dici? Potrebbe. Breccia entra invece, attenzione. Fa ridere che è innamorato di Manetrick, però c'ha Gats, eh? Sì, ma non... Eh, so prendo carta vetro. Ah, è vero. Easy. Abilità più forte del gioco, carta vetro. Molto forte, molto forte. Eh, rip. Vabbè, almeno puoi vedere l'ultimo Pokémon. Che li hai preso, lo di Sharpedo? Pescando in giro per la mappa. Stava ovunque. No, no, è alta, è alta. Ah, figo. Non vale. Ho 15-20%. Ah, ok, il bel meme. Ci ho pensato anch'io a Torkoal. È l'unico Pokémon Focco decente tolto allo starter, quindi... Bel meme, il bel meme, non male. Vabbè, io la gioco fino alla morte, ma... Cazzo, la prima l'hai portata a casa facile. Cioè, non facile, però... Tutti quei tipi acquoli mi hanno... Un po' destabilizzato. Vabbè, qua Torkoal penso che ci schiatti. Eh, ma Alexi fa un bel danno, eh. Eh, ma Torkoal regge bene a quanto pare. Ecco qua. Ah, l'hai giocato vampata tu? Ok. Non me ne privo di una mossa del genere. 1-0, mamma mia. Ok, interessante. D'accordo. Bene. La prima è andata. La mia idea iniziale era di portare Viplum con Chlorophyll. L'avevo catturato anche Gloom, poi dico, aspetta, ma la pietra non si compra in sto gioco. E niente. Il tipo, va il Plum Chlorophylla con Solarraggio e Torquoal giorno di sole. Quella era la mia idea iniziale, ho detto, easy sweep in tutto il team, invece niente. Vabbè, comunque. Ovviamente non possiamo cambiare strumenti né nulla, quindi... Ok, dai, proviamo la seconda, let's go. Ok, cambiato lit. D'accordo, interessante. Ordunque. Hmm... Eh, devo un attimo ragionarmela questa. Io non so quanti dei tuoi abbiamo protezione. Questo è un po' un problema. Eh, Claydol è un fottuto problema, io non pensavo. Io che cazzo gli gioco a questo? Andiamo un po'. Provo onestamente che l'autodistruzione sia veramente forte. Io il team l'avevo basato su Claydol. In realtà anche su Schermory, poi Schermory l'ho droppato in realtà. Sì, l'avevo pensato anch'io, Schermory. Secondo me in doppio è un po' più marcio. È scammo qua, perché tu hai buttato dentro Sharpedo? Nella pessima notizia. Perché io... Ah no, ok. Mi sono di averte fatti psichico, cazzata. Ho detto un altro iata. Se qua ci fosse dietro Torquoal con siccità andrei a nozza, eh. Peccato che pensa un po', Torquo siccità. Eh, non c'è qua. Io faccio sta giocata qua, ma... Eh, Claydol è sotto scacco. Ma come? Ma dai! Eh, non ha 100%, non ha 100%. Eh, ho capito, però dai che cazzo. Ma Stradio gliel'hai tenuta perché hai detto potrebbe essere utile o perché non hai messo altre mosse? Perché una volta hai mosso e hai detto, ma ci sta... Non è, non è, non è, non è uscena. Dio Cristo. Eh, qua l'idea era di fare Stradio forza e tu subivi il doppio del danno. Ah, ok, credo, comunque non hai puntato sull'attacco concreto. Eh? Oh, va bene. Allora, possiamo dire che ha pareggiato il miss di Stradio? Ecco. Posso, posso starci, dai. Cos'è stata, Tentacle? Una di quelle che aumenta l'attacco speciale, il feto speciale. Attacco speciale. Ok, ai ai ai. Questo è brutto allora. Mmm, li facciamo così. Nice, interessante. Ma Nectric. Ok, io ho tolto Tentacle. Lo accettiamo. Maitiena. Era per dropparti Geridos? Ci sta. Ok. Non mi aspettavo che successe, devo essere onesto. Cioè, non che non ci sia, ma non me l'aspettavo. Bravo, Maitiena, che soddisfazione che sei. Nice! Oh, cazzo, parafulmine. Merda, è vero. Totalmente dimenticato di parafulmine. Let's go. E qua si vede chi ha le 1000 IQ move. Ho detto, Geridos non può essere non accompagnato da un parafulmine. Bravo, bravo, bravo. Me l'ho addirittura dimenticato, pensa. Allora, ora che Zablai è un meme, magari andrà di ombra notturna. Andiamo un po'. Sa mai Tiena che cazzo ha? Prima è stato one-shottato, quindi oltre all'intimidio non è servito a niente. Ok, accettiamo. Qualcuno sta per fare kaboom da queste parti. Che palle fa? Sto robè è terribile, ti giuro. È inguardabile. Zablai attaccate, prego. Quanto ha? 50%? Mi pare di sì. Oh, buono, bravo. Palla ombra. Eh, non so quanto tanto faccio, onestamente, però. Ah, qua. Proviamo così. Cleidule è un problema troppo grosso. Un autodistruzione protect oppure autodistruzione Zablai è troppo forte. Probabilmente adesso mi arriva. E invece no. Sei switchato o vuol dire che non ti distrugge? Beh, non mi distruggerai con un Geridos a meno uno. Uh, ok. Maledetto Ariama. Aspettavo sinceramente una giocata diversa. Pure riflesso. Boh. Porca tra i assaluti ci hai redditorato. Beh, però su Ariama diciamo che... Sì, è abbastanza ridicola, in effetti. Ecco, ora mi hai finito schermo luce. Mi ha smesso anche di piovere. Citrus su Ariama. Credo l'è più veloce di Geridos. Sta cosa qua è brutta. Sì, è assurda. Non è brutta. Molto particolare, devo dire. Sì, devo ammettere che... Mi hai messo molto, molto, molto in difficoltà con quel Manetrecle. Si prova. Spero di non avere intato. Cosa mi arriverà? Fulmine su... Oh, cazzo, veramente. Ammazza qualcosa! Distruggilo! Devastagli l'esistenza. Immaginavo che arrivasse lo schermo. Ari, 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 Ari. Bravo! Che cazzo, però. Statico, capiamo. Un po' troppo. Statico, capiamo. Ok, Gigi? Faro un po' troppo. Ok, quanti kill ti ho preso? Una. Io zero, se non ho sbaglio. Eh, siamo... Direi che stiamo genericamente molto stallando in questa lotta. Se dovessi darle una lore, direi che è una bella lotta stall. Che battaglia l'ultimo sangue. Comunque la mia prima call del team doveva essere Dusclops. Però mi sono reso conto che è impossibile farli rivelare il 37. Eh, ci ho pensato anch'io, ma è in realtà. Perché ho detto, tanto ci sarà esplosione autodistruzione, quindi mi serve. È irrealistico, è irrealistico. Non era male come idea, però è irrealistica. Ma perché se dovessi perdere sta best of free, nel mio caso, sarà Claydol averla vinta. Perché, cioè, è troppo superiore attualmente. Però, attenzione. Ok. Vai, Claydol, è stato un onore. Eh. Meno male, il nostro Torqual sa come difendersi. Quella puttana, hai dato protezione anche a quello. No, lui ce l'aveva già, quando l'ho catturato. Sì, non so perché ho detto anche. Porca troia. Vabbè, sinceramente, Gyarados per Claydol lo accetto, anche perché è poco più problematico. Anch'io, anch'io lo accetterei. Che poi, attenzione, è meno uno o meno due? No, sto con meno uno. No, frateo. E consiglia che meno uno per autodistruzione vale molto di più, perché è di mezzo alla difesa, ma così, cioè, il danno che mi fai è molto meno. No, mi sono dimenticato. Eh, ho rimosso dal cervello questa informazione. È vero. Cioè, io lo sapevo che era meno uno, però dico, bah, sai com'è, di mezzo alla difesa, invece è come avessi fatto una 150 normale, penso. No, una 200, mi pare, sia autodistruzione, che in realtà ci sta. Cioè, Gyarados lo tanka, poi Claydola ha pochissimo attacco fisico. L'ho buttata nel cesso, questa era gestibile. L'ho buttata nel gabinetto. Boom, sparisci. Che era di drago. Eh, non lo sai che qua, come funziona la terza gen? Ma con l'esplosione non entravo in free switch? Sì, hai switchato, però ti becchi l'attacco lo stesso. Perché è una doppia, cioè. Eh, scusa, io lo davo per scontato, perché, però effettivamente... Eh, qua, qua è... Però ascolta, con tutto il Pokémon Smeraldo che hai giocato ultimamente, che non lo sai. Eh, in doppio no. Beh, comunque un po' di sfide in doppio ci sono, poche. Però la settima palestra... Beh, ma te le fatte. Eh, niente intato. Adesso sto pensando... Cazzo in ventaglia. Comunque è troppo stupida sta cosa. Ti becchi l'attacco lo stesso. Eh, vabbè, GG. Alla fine c'hai un team superiore. Allora, io non so se l'onda shock è a roll oppure mi killa 100%. Che non mi ricordo benissimo il danno che mi ha fatto. Secondo me... Eh, no, vabbè, sì, quasi probabilmente a roll. Potrei averla intata come potrei aver fatto il Predic della vita. Preamolo. Ariama? Maitiena. Hmm, forse ti aspettavi uno switch su Ariama. Mi aspettavo via Geridos e vampata su Sublime. Preservi Geridos e killi Sublime. Diciamo che un po' ci hai preso. Hai rischiato un roll. Eh, sì. Per quello ho detto o ho intato oppure il Predic della vita. Ma mi aspettavo tu mettessi Ariama con grasso spesso. Eh, non ce l'ho, Guts. Ah, non è Guts. È vero che c'è Guts. Troppo Guts. Beh, in realtà buona anche quella. Però così... Allora, in realtà non è nemmeno una giocata così malvagia. Per quello l'altro torro l'è droppato e si Bly reggerebbe. Quindi in realtà era... Cioè, secondo me era un trade che potevo accettare. Perché Mike Tina qui obiettivamente va a fare poco nulla. Cioè, obiettivamente cosa può fare da adesso in poi? Solo spammare... Intimide, sì. Solo giusto contro Whiskash. Però vabbè, a questo punto devo anche... Provare a trovare un'altra soluzione per Whiskash. Spoiler. Ok, e adesso è un altro main game, ti dirò. Proviamo sta follia anche qui. Direi abbastanza ovvio come Switch. Ok, interessante. Sono curioso di vedere cosa succede adesso. Allora, io ti ho appena fatto un brand notturno e lancia fiamme su Geridos. Porca di quella puttana. Ah, interessante. Allora, ci sarebbe una colpa. Nel senso che se ora qua io ti burno Geridos, probabilmente Geridos è morto. Vero, sicuramente. Purtroppo non ho fatto in tempo a dare un paio di mosse. Torco sarebbe stato molto utile con una stab, con una normale. E cosa succede? Burn the Lord! No. No, io speravo che non tanto nella burn qua, se non facevi pioggia danza era una bella giocata. Non ho pensato che potessi fare pioggia danza, è stata un'ottima giocata in effetti. Eh sì, vabbè. Cioè, sto Geridos qua è abbastanza un meme, è arrivato a sto punto. È abbastanza, sì. Devo dire che è un bel meme. Ma lo teniamo. Chiaro, chiaro, chiaro. Che è un bel intimidate. Va bene, qui ovviamente non ti ho fatto onda shock. Allora, io qui faccio un ragionamento che non voglio sapere se è giusto, però tu non ti ricordavi di Guts. Quindi suppongo che se è dato per scontato ariama grasso spesso, il tuo ariama sia grasso spesso. Interessante. Ciò vuol dire che non è Guts e che quindi il tossine che ti ho tirato non ti darà la vittoria. Ma questo qua è un mind game. Ah, ok. Va bene, lo accetto, lo accettiamo. Questo qua è un puro e semplice mind game che non ha nessun altro scopo se non quello di essere un mind game. Senza né capo né codo. Ok, però. Tra l'altro ho finito anche tutti gli screen di Claydol che ancora sopravvivevano misteriosamente. Abbiamo un po' di veleni addosso, eh. Sarà una debacle perché... Ok, immaginavo tutto per vederlo. È tipo obbligatoria questa qua, sono troppo sotto minacce da quel Whiskash e se switch prendo cazzo. Cioè fondamentalmente questa è la lore. Qua la call è... Eh, ma non lo riprendo mai questa. Cioè per carità, hai tutti i cippati dietro, eh. Però è un po' dura. Uh, ah ok. No, no, facciata! Ma questo, ma dai, ma com'è possibile che... Io sono avanti almeno 150 in più rispetto a te. Ma ci hai pensato a facciata? Certo che ci ho pensato. Cioè hai pensato all'eventualità che potessi tossinizzare, bravo? Certo che ci ho pensato. Non ci posso credere. Certo non ce l'avevo, ragazzi, ce l'avevo a facciata. C'è problema. Problema risolto, ragazzi. Tutti a casa. Diciamo che non vince ragazzi a facciata, ma il solo possederla mi rende un figo. Va detto. È il momento della doppia proda. È entrata. È entrata davvero. È il momento della doppia proda che tu ho obbligato. Ma sembrai attaccato. Cioè comunque tu c'hai il Whiskash veloce. E dire che c'è la natura che toglie velocità. E Zabai che è un cesso. Vede che il mio supply, esatto. Si vede che il mio supply è un bel cesso. Ma già ti se ti faccio facciata sul Pokémon è entrata. Beh, sarebbe un po' hardcore nel senso che era un supply. Farebbe molto rientro. Come l'hai fatto? Non l'ho fatto, non l'ho fatto. Però ci ho pensato. Cioè hai pensato, però hai detto forse... Lui tenta la doppia proda perché è l'unica cosa che può fare, però... Sì, ma ti posso anche dire se vuoi che tento la tripla perché... Mi spieghi che alternativa ho qua. Non è che io ne abbia molta, tra l'altro non è... Vediamo. Ma eccettando sono giù sempre di surf. Vai, tripla roba. Eh, vabbè. Ero un nice try, lo ammetto. Eh beh, alternative ne avevo poche. Qua secondo me Torquo l'ho facciata di Rama, te lo tiene. Ah, però. Vabbè, comunque facciata l'avevo fatto su Ariama. Quindi sarebbe andato giù. E poi Torquo, cioè... Dietro ancora... Hai vinto la speedta e non era così scontato. No, no, però... Allora, quello assolutamente no. Però tu dopo eri a one shot dall'altro surf. E dei re-out speedato da Whiskash. E detto ci avevo Gyarados con un altro Intimidate, nonché Torquo, nonché Sharpido. Quindi, cioè, detta sinceramente... Potevo anche non critare. 5-0. Porco 2. Che botte ho preso. Queste erano veramente tante botte. È stato un bel content, devo dire. Sì. Adesso ti lascio mangiare qualche commento a caldo finale. Commento a caldo finale? Niente, mi brucia il culo. Sì. 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 Sì.